RTC Quarta Rete Tragica scomparsa a Cava dei Tirreni, non ce l'ha fatta la donna di 38 anni che era stata ricoverata ieri a Santa Maria ed in Coronata dell'Olmo. Aveva contratto il virus. Tragica scomparsa a Cava dei Tirreni, non ce l'ha fatta la donna di 38 anni che era stata ricoverata ieri presso l'ospedale Metelliano con febbre alte e problemi respiratori. Non si conosce il quadro clinico della donna e non possiamo dire con certezza se combattessi o meno con altre patologie pregresse. Ciò che è certo è che aveva contratto il Covid-19 e non si era ancora sottoposta alla vaccinazione. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la donna abbia accusato i primi sintomi influenzali tre giorni prima di essere trasportata in ospedale. 38 di febbre e problemi respiratori sempre più importanti hanno costretto la donna, originaria di Scafati ma residente nella frazione di Passiano, ad affidarsi ai medici e al personale del 118 di Cava dei Tirreni. Trasportata in ospedale con urgenza, la giovane donna è morta per arresto cardiaco poco dopo il suo arrivo in ospedale. La vicenda lascia incredula tutta la comunità cavese che con la giovane donna vede salire il numero dei deceduti dall'inizio della pandemia a 45 su tutto il territorio metelliano. Attualmente positivi 11 cittadini cavesi. E continua a preoccupare la situazione del Covid-19. C'è preoccupazione infatti anche in costiera amalfitana per alcuni focolai scoppiati a scuola. A Maiori emerse altre quattro positività nello screening all'Istituto Rossellini. Resta alta la preoccupazione a Maiori in seguito all'accertamento di un focolaio Covid all'interno dell'Istituto Comprensivo Roberto Rossellini. Infatti è stata accertata la positività al Covid-19 di ulteriori quattro alunni della scuola primaria. Si tratta di bambini sottoposti allo screening di massa dopo i nove contagi emersi nei giorni scorsi. Nella giornata di ieri infatti è partita l'operazione scuola sicura predisposta dall'amministrazione comunale di Maiori. Ben 350 i tamponi antigenici a disposizione degli alunni e del personale docente che frequentano il plesso di Maiori. Nella giornata di ieri ne sono stati effettuati circa 170, poco più che la metà. Oggi, sempre presso la sala antistante e l'auditorium dell'Istituto Rossellini, si proseguirà con gli altri tamponi. In attesa di nuove disposizioni, restano sospese le attività in presenza per diverse classi. Ad oggi, quindi, a Maiori sono 17 le persone positive al Covid-19. Preoccupazione anche ad Amalfi, dove il sindaco Daniele Milano ieri ha comunicato la positività al Covid di quattro cittadini. Nello specifico, si tratta di due adulti e di due alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Gerardo Sasso. Immediatamente sono state attivate tutte le misure del caso. Sospese le attività didattiche per due classi della secondaria di primo grado. Ora il timore è la presenza di un cluster così come avvenuto a Maiori. Il centro operativo comunale ha attivato tutte le procedure di isolamento e sicurezza, nonché i necessari tracciamenti. Sale il numero dei positivi anche a minori, dove attualmente sono 10 le persone che hanno contratto il Covid-19. E proseguono i disagi per i pendolari della linea storica Napoli-Salerno, determinati dal blocco reso necessario dal rischio crollo di un fabbricato a Torre del Greco. Vanno avanti ormai da due settimane i disagi dei pendolari determinati dal blocco della linea storica Napoli-Salerno, a causa del rischio crollo di un fabbricato privato a Torre del Greco. Centinei di persone così quotidianamente sono costrette ad autentiche peripezie per raggiungere la loro meta, ed in particolare a percorrere a bordo di un autobus sostitutivo il tratto tra la stazione di Torre Annunziata e quella di San Giovanni Barra, per poi salire a bordo di un nuovo treno e completare il tragitto. A destare preoccupazione anche tra i numerosi utenti dell'Agro Nocerino è la possibilità che il fermo del tratto ferroviario possa protrarsi fino a dicembre. In quest'ottica il Comitato Etica e Salute, con un'apposita missiva, ha chiesto un intervento chiaro e deciso dei sindaci del territorio, per sollecitare Trenitalia e la Commissione regionale a trovare soluzioni in tempi rapidi. «Non avevamo fatto in tempo ad abituarci ad un servizio ritenuto efficiente, seppur migliorabile, per frequenze, corse e servizi, che siamo nuovamente costretti a subire un film già visto», ha dichiarato il coordinatore Agostino Ingenito. «Il servizio sostitutivo bus non è funzionale alle esigenze dei pendolari», prosegue la missiva. «Inoltre, nessuno ha previsto un piano che potesse aumentare corse di sito e bus Italia da e per Napoli». Nella lettera che si chiude con un accorato appello rivolto, oltre che ai sindaci dell'area, anche ai consiglieri regionali e parlamentari, si pone inoltre l'accento anche sulle ripercussioni che determina sull'ambiente la scarsa attenzione alle tematiche del trasporto pubblico. L'aumento di monossido di carbonio e altri elementi, recita il testo, appare ancora più evidente con l'intensificarsi del traffico su gomma, che proprio nello snodo angrese verso Pagani sta generando problematiche serie anche di viabilità. E a Salerno, dopo la bufera giudiziaria, prosegue il presidio dei lavoratori delle cooperative sociali dinanzi a Palazzo di Città. Vediamo. Secondo giorno di presidio sotto i portici di Palazzo di Città dei lavoratori delle cooperative sociali, quelle fermate dall'inchiesta giudiziaria che ha portato in carcere il Dominus Vittorio Zoccola e ai domiciliari l'ex assessore alle politiche sociali del comune di Salerno, Nino Savastano, e il dirigente del settore ambiente, Luca Caselli. Questa mattina, a presidio della loro presenza, c'era anche la polizia, ma l'agitazione è pacifica e serena. Con il divieto di dimora a Salerno per i presidenti delle otto cooperative, i circa 150 lavoratori sono allo sbando, al netto anche del fatto che una parte di loro è stata già fermata con un'apposita delibera, ma per quelli che stanno continuando a lavorare non si capisce cosa accadrà per il futuro. C'è chi come il neoassessore all'ambiente del comune di Salerno, Massimiliano Natella, ha avuto modo di far intendere che bisognerà procedere con un nuovo bando, ma non si comprendono né i tempi né le modalità con le quali si procederà. Quello che è certo al momento è che resta in bilico il servizio di manutenzione del verde pubblico e dei parchi cittadini, uno dei tanti affidato è proprio alle cooperative. Da ieri i lavoratori presidiano Palazzo di Città in attesa di essere ricevuti ed ascoltati, ma il comune è chiuso non solo a loro ma a chiunque voglia accedere per interfacciarsi e prendere notizie come gli stessi giornalisti. I lavoratori che si stanno raffidando ad un sindacato stanno preparando una lettera per racchiudere le loro richieste ed arrivare così ad una interlocuzione che fino ad oggi è stata loro respinta. Interruzione idrica in alcune zone di Cava dei Tirreni. Nel servizio che segue vediamo quali sono le zone interessate. A causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice integrativa in località Ogliara di Salerno sono previsti disagi anche a Cava dei Tirreni. Infatti l'Ausino, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato, ha fatto sapere che sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 22 di domani mercoledì 20 ottobre e terminerà salvo imprevisti alle 6 del giorno successivo, ovvero giovedì 22 ottobre, nelle zone di Arco Cammarese, zone alte della frazione annunziata, San Giuseppe Alpennino, località Starza, Pregiatello, Santa Lucia, Petrellosa e Via Anello Vitale relative traverse. E nell'ambito dello stesso intervento saranno effettuate delle manovre con interruzione del servizio per consentire il recupero di accumulo idrico del serbatoio di Sant'Anna. Pertanto sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 22 di mercoledì 21 ottobre fino alle 5 del giorno successivo e dalle 22 del giorno 21 fino alle 5 del 22 interessando le seguenti zone Pagnara, Monte Caruso, Citola, Pia Pasquale di Domenico, Via Maggiore e i piani alti degli edifici, siti in via Zarrella. Ed ora apriamo la pagina dello sport con la Cavese. Si è giocata oggi pomeriggio la settima giornata del Girone I del campionato di Serie D. A Simonetta Lamberti è andata in scena Cavese-Biancavilla. E vediamo com'è andata. La Cavese rifila tre gol al Biancavilla e ritrova il feeling con la vittoria nel settimo turno del campionato di Serie D. Al Simonetta Lamberti gli Aquilotti si sono imposti per 3-0 esprimendo anche una prestazione più continua e più concentrata rispetto a quelle precedentemente espresse con Giarre e Troina lasciando poche possibilità offensive ai siciliani che non sono riusciti a incidere più di tanto. Con le immagini di Vittorio Emanuele vediamo che la squadra di Ferazzoli è attaccato fin dall'inizio. Qui al terzo minuto Cone su assist di Allegretti colpisce la traversa. Risposta del Biancavilla con una buona azione personale di Fichera che poi mette all'indietro per Stajano che calcia debolmente trovando pronto Paduano portiere della Cavese che giocava al posto di Anatrella. Il portiere Aquilotto è pronto sulla successiva battuta di Manfrè ma il secondo legno è colpito proprio da Cone con un tiro a scavare dalla linea di fondo campo Cavese che avrebbe meritato il vantaggio. Nella ripresa i metelliani spingono di più e sbloccano il risultato al 59esimo passaggio in profondità per Cone che approfitta della marcatura errata dei difensori biancavillesi e tira nulla da fare per Governali 1-0. Il secondo gol giunge al settantesimo punizione battuta da Carbonaro per Allegretti che si libera del blocco difensivo e supera il portiere in pallonetto. Al settantottesimo il 3-0 eccellente la pressione di Maiorano sul giocatore del Biancavilla Santa Paola poi Kosovan lancia il neo entrato Dias che supera il portiere in uscita. Nessun problema per la Cavese nel gestire il finale e la squadra di Ferazzoli con il successo per 3-0 va a 16 punti in classifica. Resta a quota 3 in posizione di classifica pericolosa il Biancavilla. Ed ora ascoltiamo le dichiarazioni dei due allenatori nel post partita. L'aspetto che mi aspettava e che si aspettavano un po' tutti era la reazione dopo il brutto secondo tempo di troina perché nel primo tempo non è stato tutto da bruttare. È normale che oggi eravamo attesi da una risposta importante. I ragazzi erano attesi da una risposta importante l'abbiamo avuta sia per quanto concerne l'atteggiamento che per quanto concerne il gioco espresso sul campo. Abbiamo fatto una partita importante ed era importante farla perché in questo momento avevamo bisogno di questa iniezione di fiducia di questa ventata di entusiasmo. Ma è normale che questo è l'atteggiamento che è giusto che vorrei vedere ma anche domenica col Troina io ho sentito i vostri commenti ho rivisto la partita su Facebook registrata e anche a voi nel primo tempo è piaciuto l'atteggiamento della Cavese. È il secondo tempo che non è andato della Cavese dove si è sfaldata completamente avrebbe dovuto palleggiare avrebbe dovuto ottenere risultato come ha fatto oggi e invece non l'abbiamo fatto però ripeto oggi eravamo chiamati ad una prova importante i ragazzi hanno risposto a tutti all'allenatore alla società e all'ambiente nel modo giusto e hanno fatto un'ottima partita. Al via il nuovo corso targato Stefano Colantuono alla Salernitana a lui il compito di risollevare le soldi dei Granata. Stefano Colantuono studia la rosa ed aspetta il livello libero definitivo da parte dello staffo medico circa la disponibilità di alcuni calciatori Stranberg non ha forzato finora in settimana così come Gionber ma i due esperti difensori dovrebbero essere arruolabili per sabato con il recupero di entrambi Colantuono potrà schierare difesa a tre titolare che sarà completata da Gaiolo il dubbio principale riguarda il modulo dalla cintola in su Colantuono sembra infatti deciso a schierare difesa a tre smentendo quanto fatto da Castori negli ultimi quattro partiti e la sua gestione il trainer di Anzio ha provato sia il 3-5-2 sia il 3-4-1-2 tutto ruota intorno a un ruolo di Franck Ribéry il francese è stato provato sia da seconda punta sia da trequartista dietro due attaccanti paradossalmente proprio col passaggio alla difesa a quattro e l'inserimento del trequartista la sovintana di Castori aveva offerto le migliori prestazioni subendo anche meno tutto fino alla gara di La Spezia caratterizzata da un calo improvviso nella ripresa rientrata quasi del tutto l'emergenza visto che anche Ruggeri potrebbe tornare disponibile in attesa di Lassana Coulibaly e Capezzi che rimpolperanno il centrocampo Colantuno sa che il reparto in chi ha più soluzioni all'attacco e proprio per questo non tralascia la soluzione con due punte di ruolo assistite dal genio di Ribery in questo caso una delle due maglie del reparto avanzato potrebbe essere consegnata a Bonazzoli mentre per l'altra Simi potrebbe essere favorito su Diurice e Gondo impegnare con due attaccanti ruoli difesi avversari nel caso specifico quella dell'Empoli che ha incassato quattro gol in casa dall'Atalanta potrebbe essere una buona idea anche perché la seritana deve provare a vincere per non perdere altro terreno in classifica in chiave formazione resta un dubbio per la corsia destra dove Zortea insidia che crida mentre in mezzo al campo Di Tacchio e Mamadou Coulibaly dovrebbero essere sicuri di un posto nell'ipotesi di Mediana 3 Obi e Castanoss si giocherebbero una maglia la presenza di Ribery e la necessità di conquistare la vittoria sono queste le certezze da cui ripartirà la nuova avventura di Colantuono sulla panchina Granata e concludiamo con le bocce perché in programma domenica 24 ottobre la gara nazionale di bocce specialità Raffa organizzata dalla SD dei cacciatori di Nocera Superiore lo spettacolo delle bocce giovanili specialità Raffa sarà di scena in Campania il prossimo 24 di ottobre numerosi talenti provenienti da ogni angolo della penisola infatti giungeranno in provincia di Salerno per partecipare alla gara giovanile nazionale Juniores denominata dodicesima tappa circuito prestigio l'evento riservato agli atleti delle categorie under 18 under 15 e under 12 abilitati in under 15 è organizzato in sinergia con la Federbocce Campania dalla ASD dei cacciatori di Nocera Superiore società da sempre attenta alle nuove leve aspettiamo tutti insomma a livello nazionale perché è un incontro prima come dire di socializzazione dei ragazzi dei bambini e poi soprattutto per il divertimento che nei ragazzi non manca il 24 ottobre avremo comunque sempre il piacere e l'onore di ospitare i ragazzi che verranno da tutta Italia per questa gara giovanile nazionale e poi stiamo anche lavorando per far partire un campionato paralimpico quindi a squadre che dal prossimo anno comunque grazie alle iniziative della federazione dovrà partire questo campionato e questa era l'ultima notizia di oggi grazie per averci seguito e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.